com'è andata la vaccinazione tutto bene non ho sentito niente e spero che faccia bene la vigilia di pasqua è proprio con questo con questo regalo insomma in qualche modo è un regalo di pasqua questo molto bene dal 24 e ne ho un'altra ha fatto il vaccino quale ha fatto quindi anche lei è tra quelli che sono già stati appena vaccinati insomma alla vigilia di pasqua è bellissimo anche il giorno di pasqua è benissimo è contenta sì molto era ora perché mi fido della medicina vado dal dottore quindi vuol dire che ci tengo se no se non c'erassi fiducia della medicina non vado neanche dal dottore quale che dicono sono convinto che uno deve crederci se non ti crede ne aiuti che vado posso chiedere quale dei vaccini quindi fra poco insomma ci sarà la seconda non vedeva loro insomma come come sono contentissimo perché ci vuole altrimenti non andiamo avanti sì sono contenta di averlo fatto e speriamo vada tutto bene ecco per adesso sto bene infatti che tutti accettino di essere vaccinati io me lo auguro sono molto organizzati e speriamo bene